dai ragazzi si riparte si riparte buongiorno a tutti sto praticamente uscendo da roma se ce la faccio come al solito il venerdì uscire da roma è una tragedia una tragedia e però ce la faremo dai vado all'appuntamento zona ardiatina e a prendere i miei amici e poi si parte a dopo ragazzi una cosa importante non vi ho detto dove stiamo andando a civitella lo vedo abruzzo c'è la sagra lungo le antiche rue lo fanno tutti gli anni per me una bellissima sagra poi le immagini insomma parleranno dai a dopo che fa cavogello certo non è proprio un bel tempo qua è arrivato già inverno vabbù vediamo dopo ecco ragazzi qua ci siamo sistemati in quest'area l'area industriale per adesso siamo noi cinque camper stiamo aspettando gli altri due amiglietti che arrivano e poi vediamo ok poi se sta laggiù un albero poi vediamo il da farci attra Grazie. E questo è solo un pezzo della sagra del paese. Ragazzi, bruschetta abbasciata. Questa è qua per il gruppo, quello tuo. Ah, tu l'hai attivo. No, no, faccio un tonprovvisato. Guardate che è Vivoletto. Gira la schermata. Siamo al vicolo del bagno. Ragazzi, è diverso. Questa è perdita a mezzo. Quello fa quelle cose là che sta scritto in mezzo. Ragazzi, dove vai vai è il mondo. L'esce e muore qua. Come ti chiami? Claudio. A gentile richiesta di Claudio. Paga tutti. Che fai? Chi non ha conosciuto? Vediamo un po'. Che scrive adesso? Che fai? La lettera. Speziale. La chiesta di Claudio. La chiesta di Claudio. Solo 100 euro. Allora non scendo, amore. Ho fatto i cesarei che vuoi. Tutto voglio. E tutto pure... Ciao. Però io ci credo che sei un po' pistaio. Sì. Visto in baffè. Di birra e ti impregna, il barco si impregna. Che parola. Che poesia. Ah, poesia. Ma voi giù vicino non ci avete il tombo. Sono fatto a mano. Si tratta di mettere la testa. Eh? Quella madre non conosceva mai. Sì. 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 Buongiorno ragazzi. Oggi invece è così. Campamento Campo sta lì. Oggi piove. Però va bene, dai. Stiamo andando a prendere la navetta. Dal... Da dove ci hanno fatto mettere qui i camper. Comunque è la zona industriale. Qui a Civitella per questa sagra che si chiama Lungo le Antiche Rue. Questa è tutta la zona. Allora. Hanno messo a disposizione la navetta gratuita. E... Dai. Col tempo si sono un po' più organizzati. Bene così. Niente ragazzi. Vediamo poi dentro. Al paese. A dopo. Ciao ciao. Ciao. Siamo qua nella navetta. Dove ti mangiare? Benissimo. Sì sì. Di tutto. Io ho mangiato la polenta, e non si fa... Ma... Neanche il trentino la fanno. Ma... La polenta signor? Quella bianca con i fiscini. Neanche il trentino la fanno. Buona? Buona. Eh. Qua invece mettono i porcini. Ma veramente... Ecc. Ma... Buona, buona. Siamo arrivati, ho fatto un pezzetto qua di scala. Targa in memoria. E poi andiamo ancora più su. Dai, 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 il tempo può regge insomma. Dai, dai, ci rinvoltiamo per la sagra. La polenta, la polenta. Tutte c'è là, eh? Vediamolo. La polenta, la polenta, la polenta, la polenta. La polenta, la polenta, la polenta, la polenta. Con una mano, regà, pregate tutto. Guarda, guarda il pazzicino. Oh, mio. Oh, lì. 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 Lì. Oh, lì. Oh, lì. Oh, lì. Oh, lì. E questa, mia. poi lì. Oh, lì. Oh, lì. Oh, la la 30. Che sai chiara? Così addressa? La 30... Grazie a tutti